Ciao ragazzi! Oggi parliamo di un gioco che è stato descritto da tutti come un simil carcasson. Sto parlando di cacao di Phil Walker Harding, già autore di Imhotep e Sushigo. È per 2-4 giocatori per la durata indicativa di 45 minuti. Tra giungla incolta, specchi d'acqua, piantagioni di cacao, i nostri meeple dovranno portare a casa più oro possibile. Vediamo come si gioca! 1. Consegnate a ciascun giocatore la sua plancia personale, un meeple portatore d'acqua che inizierà il suo percorso dal valore meno 10 e le tessere lavoratori con il retro del colore del giocatore. Ognuno mischia le proprie tessere lavoratore e prende le prime tre, che rappresentano la mano iniziale. Create le riserve di oro, di cacao e di gettoni culto del sole. Mischiate le tessere giungla e suddividetele in varie pile a faccia in giù al centro del tavolo. Prendete due tessere e piazzate le scoperte accanto alle pile a disposizione dei giocatori. Le tessere giungla possono essere di vari tipi. Piantagioni di cacao singola o doppia, fonti d'acqua, mercati con valore d'acquisto di 2, 3 o 4, miniere d'oro di valore 1 o 2, templi, siti del culto del sole. Nelle partite a due giocatori si eliminano alcune tessere come indicato dal regolamento. Selezionate una piantagione singola e un mercato di valore 2, che saranno le tessere di partenza. Posizionatele al centro del tavolo diagonalmente con un angolo in comune. Comincia la partita il giocatore più anziano. Il gioco si svolge in turni, suddivisi nelle seguenti fasi. Posizionare una tessera lavoratore. Riempire gli spazi giungla vuoti. Attivare le tessere lavoratore. Pescare una tessera lavoratore dalla propria riserva. Scoprire nuove tessere giungla. All'inizio di ogni turno i giocatori devono posizionare una tessera lavoratore dalla propria mano nell'area centrale, adiacente ad una o più tessere giungla già presenti, mai ad un'altra tessera lavoratore. In questo modo si formerà una scacchiera che alterna tessere lavoratore a tessere giungla. La tessera lavoratore può essere orientata nel verso che si preferisce. Solo se a causa di questo posizionamento si viene a creare una L tra due tessere lavoratore, si attiva la fase 2. Il giocatore di turno sceglie una delle due tessere giungla scoperte e riempie lo spazio vuoto. Se si creano due spazielle, il giocatore usa entrambe le tessere giungla scoperte, posizionandole a sua scelta. In seguito si risolvono le azioni relative alla tessera lavoratore appena posizionata. Si attivano tutti i lati che si trovano adiacenti a tessere giungla presenti sul tavolo e si risolvono gli effetti della tessera giungla relativa, tante volte quanti sono i lavoratori disegnati su quel lato. Se è stato necessario posizionare una nuova tessera giungla per riempire uno spazio vuoto e questa si viene a trovare adiacente ad una o più tessere lavoratore, in questo caso si attivano anche tutti i lati adiacenti alla nuova tessera e anche i giocatori non di turno potrebbero beneficiare dell'azione. Vediamo le azioni delle tessere giungla nel dettaglio. Le piantagioni singole danno un cacao per ogni lavoratore adiacente, quelle doppie due cacao per ciascuno. Il cacao va immagazzinato sulla plancia, massimo 5 pezzi contemporaneamente. Le fonti d'acqua per ogni lavoratore fanno avanzare di un passo il portatore d'acqua sul tracciato in plancia. Con i mercati ogni lavoratore può vendere al mercato un cacao per il prezzo indicato. Con le miniere d'oro ogni lavoratore riceve il numero di ore indicati. I siti del sole danno un gettone culto del sole ad ogni lavoratore. I gettoni vanno immagazzinati in plancia, massimo 3 gettoni contemporaneamente. I templi funzionano in maniera differente, non si attivano durante la partita ma danno oro alla fine. Quando termina il gioco, per ogni tempio si sommano i meeple di ogni giocatore sui quattro lati del tempio. Chi ha il maggior numero di meeple ottiene 6 ori, chi è al secondo posto 3. In caso di parità, tutti i giocatori con il maggior numero di meeple ottengono 3 ori. Una volta risolte le azioni, il giocatore pesca una nuova tessera lavoratore in cima alla propria pila per tornare ad avere 3 tessere in mano. Infine, se sono state usate per riempire spazi vuoti, il giocatore pesca una o due tessere giungla per tornare ad averne due scoperte sul tavolo. Se terminano le tessere giungla ma i giocatori hanno ancora tessere lavoratore, un giocatore durante il proprio turno può decidere di restituire un gettone culto del sole per poter posizionare la sua tessera lavoratore sopra una sua tessera già sul tabellone di gioco. In quel caso si riattivano tutti i lati della tessera così posizionata. Il gioco termina quando tutti i giocatori hanno posizionato la loro ultima tessera lavoratore. A quel punto si calcola il punteggio finale sommando gli ori guadagnati nel corso della partita, gli ori guadagnati sui templi come precedentemente indicato, gli ori relativi alla posizione del portatore d'acqua, questi possono essere anche negativi, più un oro per ogni gettone del sole in plancia. Chi ha più oro è il vincitore. In caso di pareggio vince chi ha più cacao rimasto in venduto. Mmm cioccolato! Dove sono i meeple? Dove sono i meeple? Uno solo? Compro cacao o vendo cacao? Compro cacao o vendo cacao? Ho un'azienda ben avviata. Allora prendo una moneta io, una tu, poi due cacao io e uno... Mi giro la testa. Su quel tempio hai la maggioranza. Metterò tre meeple! Vi presento Carca Sao, diffidate dalle imitazioni. È vero, per certi aspetti ricordo Carcassonne. Nelle tessere e nei caratteristici meeple, anche se è un po' triste vederli solo disegnati. Ma giocandoci la sensazione è molto diversa. Innanzitutto perché la tessera da posizionare la scegliamo noi dalla nostra mano e non viene pescata alla cieca, quindi sappiamo esattamente cosa vogliamo ottenere dal posizionamento e viene eliminata almeno in parte la componente aleatoria. E poi perché le tessere sono posizionate con questa particolarissima struttura scacchiera, che crea incroci interessanti, situazioni da valutare attentamente per non avvantaggiare involontariamente un avversario. Sembrerebbe quindi che si possa lavorare più a lungo termine, impostando una strategia. Eppure poi giocandoci si rende conto che le azioni importanti da fare sono poche, quindi si possono portare avanti contemporaneamente più strade, quella del portatore d'acqua, quella dei templi e così via. Anche le tessere in mano sono solo tre e sono molto simili tra di loro, hanno quasi tutte una due meeple e poi ci sono quelle più rare da tre, quindi alla fine le scelte possibili non sono molte. Insomma cacao è un gioco molto semplice, molto leggero, adatto anche ai giocatori occasionali. Sono molto solidi i materiali, accattivante la grafica. Forse il difetto maggiore di cacao è proprio quello di avere un antesignano eccellente e chi già conosce e ama Carcassonne potrebbe rimanere deluso. Fateci sapere se avete avuto la stessa impressione. Alla prossima e buon gioco!